buonasera buonasera a voi tutti che ci seguite su un libri tv Gianni Colacione questa sera in collegamento con Giorgio Labrinopoulos che non so se l'ho nominato bene ma spero di sì e con Francesco De Palo parliamo di un libro l'Italia dei giganti l'autore appunto è Giorgio Labrinopoulos e diciamo quello che ha facilitato in tutto il curatore è Francesco De Palo che conosciamo già da tempo entrambi i giornalisti Giorgio è un decano dei diciamo inviati dei corrispondenti greci in Italia e a fine carriera ha scritto questo libro l'Italia dei giganti e cerchiamo di presentarlo degnamente ricordiamo Pegasus Edition di presentarlo degnamente si prendono in esame in questo libro delle personalità importanti degli anni intorno agli anni 80 insomma sostanzialmente Sandro Epertini Francesco Cossiga Giulia Andreotti Bettino Craxi Giovanni Paolo II sono dei personaggi importanti eh che è appunto ha incrociato Giorgio nel suo eh nel suo percorso professionale che tra loro hanno delle storie che poi si sono incrociate anche tra loro perché adesso pensavo a Giulia Andreotti che poi è stato anche ministro oltre che presidente del consiglio anche ministro del governo Craxi insomma tutta una serie di eh vicende intricate allora partiamo dal dare voce all'autore eh Giorgio come ti è venuto in domenette cos'è che ti ha spinto a eh a fare a scrivere questo libro ehm buonasera Gianni buonasera a tutti ehm la cosa che mi ha spinto di fare questa cosa era più che altro ehm una questione di poter lassare guarda te lo dico sinceramente volevo eh lasciare qualche cosa una testimonianza diciamo ahm ai miei figli che quanto lavoravo diciamo erano troppo piccoli non sapevano che cosa faceva loro padre tra l'altro volevo fare una questione politica in senso che quanto esistevano questi personaggi l'Italia era una un'Italia diversa un'Italia che non c'è più a mio avviso eh era la quarta potenza mondiale era la seconda il secondo partner commerciale della Grecia ehm ed era una 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 situazione molto diversa da quale dall'attuale alla quale viviamo ecco per quel motivo abbiamo parlato con Francesco De Palo e ci siamo riusciti grazie a lui che mi ha spinto più che altro perché se non c'era lui io non ci riuscivo a farlo di creare questo questo libro diciamo che ovviamente parliamo dell'Italia che tu accennavi che non c'era più l'Italia che non c'era più sostanzialmente è quella che mh viene sintetizzata con una formula giornalistica che a me non è mai piaciuta ma insomma per far capire perché d'altra parte è quella che è più comprensibile per tutti prima Repubblica eh una parte di queste persone tra l'altro eh diciamo escludendo magari Giovanni Paolo eh Secondo che magari stava altrove forse Beppino Craxi ma insomma eh gli altri eh tutti quanti hanno contribuito alla creazione dell'Italia repubblicana quindi un momento un momento particolare eh Francesco diciamo c'è stato un un metodo che ha eseguito una diciamo per poi forgiare dare una mano per forgiare questo 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 testo che è una ricostruzione storica poi eh buonasera Gianni e grazie dell'invito innanzitutto ma devo dirti sinceramente che eh diciamo negli ultimi anni eh ho avuto la fortuna di eh assistere no ai racconti che che Giorgio che Giorgio faceva eh sia sia tra di noi che con i colleghi e quando diciamo sono arrivato a fondo a questi racconti ho potuto vedere il lavoro che mirabilmente ha svolto in questi anni mi sono accorto che aveva eh raccolto una mole di materiale eh talmente importante e talmente densa di significati eh non solo politici ma anche sociali geopolitici eh di strategie di visione del nostro paese che eh diciamo era era un peccato ecco non non comporli e non metterli insieme per sottoporli ai lettori e chiaramente ai ai successori di Giorgio eh secondo me la chiave che Giorgio è riuscito a dare in queste interviste è stata quella di mettere a nudo eh gli intervistatori non solo da un punto di vista partitico o politico ma soprattutto di visione quando per esempio eh per esempio Bettino Craxi nella in quella sua intervista parla dell'Europa e parla dei socialisti europei lo fa azzardando una previsione che si è rivelata attualissima perché nell'intervista che Giorgio ha realizzato al primo ministro socialista italiano Craxi eh dice con chiarezza che il partito socialista di tutti i paesi europei avrà difficoltà ad avere un riscontro elettorale se non dovrà se non riuscirà a dare risposta alla globalizzazione Craxi l'ha detto nel 1991 oggi vediamo che proprio tramite la difficoltà che le forze progressiste europee hanno avuto nel gestire la globalizzazione sono nati i movimenti alternativi sono nati i movimenti alternativi a sinistra a destra e anche al centro in Italia è nato il movimento 5 stelle le destre stanno prendendo voti negli altri paesi c'è la Leppene penso ai movimenti sovranisti possiamo dire che in quell'intervista di Giorgio Lambrinopolo Scaraxi ha dato una visione che nessuno aveva raccolto ti faccio un altro esempio nell'intervista a Sandro Pertini bellissima perché Pertini poi aveva come Giorgio sa bene questa spiccata ehm capacità di interagire con gli interlocutori non era non era formale io ho visto anche il video di questa intervista ed è stato veramente bello Pertini racconta dei suoi viaggi internazionali citando il viaggio in Cina perché cita il viaggio in Cina perché lui incontrando i leader dell'allora Repubblica Popolare Cinese a fine intervista dice ma io in quel viaggio ho avuto questa impressione e qualora i cinesi iniziassero a trasformare le migliaia di ettari di campagne che hanno in un territorio a vocazione commerciale industriale la Cina si candiderebbe a diventare un player di statura mondiale beh Pertini con quelle parole non solo ha azzeccato una previsione che come tutti sappiamo si è verificata ma si è preso la responsabilità di tracciare una pista ecco quello che secondo me è bellissimo del lavoro smolto dal Giorgio nella sua carriera in queste interviste che diciamo abbiamo siamo sforzati di condensare in questo libro è raccontare statisti che avevano la si prendevano la responsabilità di fare previsioni non aspettavano il risultato dei social non aspettavano di dire una frase che possa o meno incrociarsi con un sondaggio parliamo di statistiche non avevano paura di dire la propria opinione di fare una previsione e la azzeccavano perché perché erano statisti per questo il libro è stato battezzato i giganti dell'italia perché nel bene nel male chiaramente nel rispetto ovviamente delle idee dei singoli e delle loro peculiarità erano statisti di fama mondiale che davano del tu alle cancellerie non europee ma di mezzo mondo che riuscivano ad interagire con quei grandi curvoni della storia che ci sono stati nel nostro paese e che dobbiamo ricordarlo venivano da un periodo complicatissimo perché l'italia usciva dalla tragedia dell'assassino di aldomoro usciva dalla tragedia degli anni di piombo del terrorismo si stava approcciando ad un curvone storico della storia del nostro paese come il trattato di maastricht di cui non conoscevamo ancora cornice pregi difetti e proprio su maastricht che aggiungo un altro elemento in quell'intervista di craxi che molto bella craxi dice un'altra cosa dice attenzione noi stiamo firmando maastricht ok ma saremo capaci di coagulare tutti gli stati in un solo continente ed è una frase che si sposa io credo mirabilmente con l'attualità dove ancora abbiamo difficoltà di amalgama nel nostro continente quindi questo è stato un libro complicato faticoso ma devo dire che giorgio ha fatto un lavoro eccellente si era il momento diciamo di in cui si andava concretizzando quella che poi sarebbe stata l'unione europea e diciamo anche la prospettiva di una patria europea non europa delle patrie per usare una espressione di marco pannella che purtroppo mi sembra che purtroppo ancora sia una una divisione quella delle patrie delle degli steccati nazionali e in qualche modo in questo poi ovviamente si è affacciata anche la grecia però una cosa io volevo dire peraltro tu hai detto si azzardavano a fare previsioni ma io dico forse probabilmente anche perché avevano la capacità perché quella cosa che avevo accennato prima cioè il fatto di avere un vissuto un trascorso di aver anagraficamente contribuito alla creazione dell'italia dell'italia repubblicana il dopoguerra e così via insomma aveva fornito una una conoscenza una capacità che purtroppo con l'avvento dell'antipolitica un po del populismo è quasi diventata l'esperienza è quasi diventato un titolo di demerito anziché di di merito in politica ma un'altra cosa che ho visto peraltro volevo citare anche la prefazione di stefania grazi che interessante in questo libro e di oggi parla o anche stefania nella prefazione parla di una di una ehm atmosfera che c'era in italia eh appunto come tu accennavi eh Francesco eh era il post diciamo eh periodo del terrorismo che era stato devastante per l'Italia ma c'era anche una differenza anche da un punto di vista culturale eh Giorgio veniva da mh dalla Grecia ecco come l'hai con come l'hai vista quest'Italia venendo dalla Grecia come ti sembrava guarda io sono arrivato per studiare nel 72 Gianni eh ho vissuto tutto il periodo da da 72 fino alla nell'80 che ho cominciato a lavorare tutto quello che è successo praticamente in Italia tra terrorismo tra tra mille cose diciamo tra moro che l'avevano che l'avevano preso praticamente ho iniziato di lavorare come corrispondente secondo conto corrispondente proprio per il fatto del del rapimento di Moro sì l'ho vissuta ho vissuta io venivo da una dittatura ti dico c'era verità in Grecia c'era la dittatura dei colonnelli quando sono arrivato nel 72 e qui ho trovato la piena libertà in Italia praticamente c'era c'era libertà veramente anche se succedevano tante cose ho vissuto tutte le questioni sociali che sono stesse con il periodo il divorcio quello l'altro insomma non è che però ti posso dire che questa Italia che ho vissuto l'ho amato e ho deciso diciamo di rimanere per lavorare per sempre in Italia sono quasi 50 anni che abito in Italia non è la mia famiglia italiana ho figli italiani e nell'80 quando ho iniziato piano 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 ho cercato di dimostrare attraverso questi personaggi quanto mi hanno chiesto di farlo l'Italia di quel periodo più diciamo penso che questi personaggi avevano due due compiti e li portavano avanti molto bene il senso che la prosperità del popolo e dell'Italia più tenere l'Italia nell'Occidente penso che come compiti che avevano diciamo lo hanno li hanno lo hanno portato avanti in una certa maniera eccellente a mio avviso e sul santo padre posso dire che è stato è stata una vera fortuna avere come amico Navarro il quale mi ha mi ha aiutato di avvicinarlo poter parlare con lui e e dire tanti anni prima che lui vorrebbe voleva andare in Grecia come nel 2001 che è arrivato anche lui è stato un profeta tra virgolette se possiamo dire della caduta dell'unione sovietica ecco questo è un altro passaggio importante perché sicuramente la capacità di questi personaggi è indiscursa ormai e nei libri di storia però possiamo dire che in un certo senso la lettura del mondo era un po più forse semplificata per il fatto che il mondo era diviso in questi due grandi blocchi c'era il comunismo c'era l'area appunto sovietica c'era l'Europa dell'est e poi c'era tutto il resto l'occidente e in un certo senso era un po più semplicità di qua o di là insomma adesso c'è un po una smobilitazione di questo di questo ovviamente di questo schema da un po di tempo crollato il muro nell 89 e in questo il giovanni parlo secondo insomma ha avuto una certa un certo ruolo infatti ha avuto a mio avviso si ha avuto un un grande ruolo con attraverso la polonia il suo paese diciamo attraverso i sindacati della polonia insomma sì penso che lui ha avuto un enorme ruolo sulla caduta dell'unione sovietica e per quanto riguarda ecco per esempio una cosa importante tu sei un rappresentante della stampa nella stampa estera in l'italia è vissuto tanto tempo appunto come giornalista estero in italia sicuramente questa questo schema bipolare insomma questo schema di qua e di là se era una diciamo anche semplificazione da un punto di vista giornalistico francesco tu che vivi una diciamo in questa epoca in cui è tutto un po più tra virgolette liquido in cui c'è una smobilitazione anche e spesso anche negli stati stati uniti si 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 contesta questo insomma che non è più non svolge più il ruolo che svolgeva una volta da un punto di vista di difesa oltre che dei propri interessi anche di certi diritti ecco è più complicato fare giornalista adesso francesco ma senza dubbi è più complicato ma il il tema non è dato secondo me dal dal fatto che prima c'erano due squadre in campo ed oggi c'è il multilateralismo cioè fare il giornalista oggi è complicato perché non si riesce a interloquire con una classe politica di alto livello c'è io invidia per i colleghi come giorgio che hanno avuto il piacere di diciamo intervistare da approcciarsi a statisti del passato e noi non abbiamo la stessa fortuna ovviamente parlo con con rispetto parlando di tutti perché il tema non è prima il la cortina di fermo il multilateralismo oggi quello è uno schema di fondo che è cambiato per fare un esempio in queste ore il papa si trova a cipro e sta facendo questo altro viaggio interessante in grecia dove non parlerà solo di migranti di ecumenismo ma sullo sfondo sappiamo tutti c'è il tema della geopolitica il mediterraneo le intemperanze della turchia i diritti violati le intemperanze della turchia contro i trattati internazionali e c'è il gas quindi è chiaro che la visita del santo padre da religiosa si fa anche geopolitica ed energetica quindi il multilateralismo è questo il problema di fondo è che forse questo papa insieme a pochi altri è uno dei pochi leader del mondo qui mi dicevi gli stati uniti secondo me il tema non è soltanto cosa gli stati uniti facevano e cosa fanno il tema è il panorama in cui lo stanno facendo prima non c'erano concorrenti se non nell'unione sovietica caduto il muro si è anche affievolito il primo competitor oggi abbiamo altri competitor sullo scacchiere oggi c'è la cina che diciamo è diventata la prima potenza del mondo oggi c'è mosca ma ci sono anche altri soggetti emergenti penso all'india penso la stessa turchia che ha un ruolo importante nella macro aria a cavallo fra il quadrante euro atlano e rome di terraneo e quello medio orientale cioè se noi diciamo provassimo un attimo immaginare che cosa sarebbe del nostro continente senza la turchia dovremmo capire che diciamo avremmo comunque una fase di stabilità diffusa oggi per esempio la lida turca ha avuto un picco pazzesco forse peggio di quello avuto nell'ultimo anno quindi è interessante che diciamo non solo dialogare sullo scenario su quello che è intorno legato al multilateralismo ma anche al peso specifico dei leader oggi leader che possono immaginare scenari futuri come quelli descritti incontrati per sua fortuna da giorgio nel mondo ce ne sono pochi basta vedere cosa sta succedendo alle politiche americane nel mediterraneo in afghanistan è capitato un qualcosa che forse 20 o 30 anni fa non sarebbe mai successo un ritiro così immediato di contro noi ci stiamo anche approcciando ad una fase del tutto nuova perché le guerre non si fanno più con i missili e con i radar ma si fanno con i gasdotti a colpi di gasdotti e questo è un elemento che magari 30 anni fa non c'era però per tornare agli incontri che ha avuto giorgio per esempio penso a francesco cossiga che diciamo i cui ragionamenti presenti nel libro sull'euroatlantismo e sulla geopolitica sono oggi ancora molto attuali perché cossiga parla di nato parla di divisioni euroatlantiche parla di geopolitica quando il termine geopolitica negli anni 80 veniva usato solo dagli addetti ai lavori dei militari oggi invece è entrato per fortuna anche nella stampa generalista quindi io penso che questo libro che non vuole essere un libro nostalgico è tutt'altro questo è un libro futurista io lo chiamo un libro futurista perché perché tramite gli incontri che giorgio ha avuto il piacere la fortuna di avere noi possiamo stimolare oggi la classe politica a chiedere signori ma le scuole di politica che fini hanno fatto si può fare politica senza avere l'assillo dei like sui social si può fare politica studiando i dossier prima di far parte di una commissione parlamentare e queste sono delle domande non sono domande da antipolitica sono domande da chi la politica la ama e vorrebbe che oggi fosse un po migliore di quello che è scuole di politica ti do subito la parola giorgio voglio inserire soltanto un tema che questa cosa delle scuole di politica importante ma scuole di politica in italia almeno per un periodo sono state sinonimo di partiti scuole di partito e forse è la decadenza di un certo diciamo concetto di partito che determina il fatto che poi obiettivamente abbiamo una classe politica di outsider con tutto ciò che vuol dire nel bene nel male questo giorgio che la parola io volevo dire su quello che ha detto francesco e concordo su tutto e che bettino craxi è stato l'ultimo leader che ha protetto l'italia che ha difeso l'italia da da craxi e poi io non mi ricordo nessun leader politico diciamo di aver difeso l'italia come l'ha difeso lui poi contro l'america se non lo so se vi ricordate la cigonella è una cosa importante avrà pagato pure cara però la difesa l'italia si sicuramente è stato un momento che poi bettino craxi ha dato un'impronta essendo stato anche presidente del consiglio per un periodo dall'83 all'87 insomma neanche un periodo lunghissimo però ha dato un'impronta anche perché fu il primo a parlare io che io ricordi a memoria mia insomma della necessità di riforma istituzionale in questo paese ed è un tema di un'attualità viva attuale perché non si non si sono compiute e devo dire che probabilmente ecco su questo mi piacerebbe anche sentirvi perché lo scenario in cui si muove tutto questo è l'europa dal discorso di bettino craxi dalle dalle proposte di bettino craxi su anche istituzionali per le sulle riforme siamo arrivati più che a una esigenza vissuta a l'europa ce lo chiede come se appunto questa macroscopica arretratezza per tanti versi dell'italia ma non riuscissimo ad affrontarla fino al momento in cui non arriva qualcuno dall'esterno che diceva è così o è così dove insomma cambiare a giorgio poi a francesco sono d'accordo con te su quello che hai detto perché ecco quello quello volevo dire quelle persone che avevamo prima quelle che ho intervistato nel passato mai avrebbero pensato di vuole l'europa diciamo lo chiede l'europa penso che con il loro la loro politica hanno portato l'italia come ti ho detto prima quarta potenza mondiale una cosa che nessuno penso politico italiano ci riuscirà a fare quello che hanno fatto loro prima ecco perché io e francesco abbiamo scelto questi cinque personaggi quelli che veramente hanno però tra l'altro vorrei dire anche un'altra cosa che a me mi ha dato anche è una cosa che ho pensato sempre lo vuole lo serve l'italia ha cominciato a dirlo prodice mi ricordo bene non vorrei sbagliare il quale hanno portato l'italia a privatizzarla privatizzarla totalmente l'iri quello l'altro insomma ci sono state successe cose tra 90 e 2000 alle quali insomma mai pensato che poteva succedere così oggi uno può avere anche il disegno totale di quello che è successo quel periodo là ma nessuno poteva immaginare ce lo chiede l'europa io per esempio quanto mi sono adoperato di entrare la grecia nel comunità europea negli anni 80 nell'ottanta quando è entrata scusami pensavamo tutti in grecia che per tutto che papadreo diceva non ci succederà mai perché l'europa è di due velocità diciamo economiche e non succederà mai di unirsi ma noi pensavamo con caramallis che l'europa sarebbe quella di antenauer quella di di spinelli quella di de gasperi uno stato unito con una con una diciamo politica economica e una politica militare e di tasse insomma uno stato non una cosa idrica come oggi e questo purtroppo è una questione che a me ex europeista perché non mi piace la UE posso dirti che non me l'aspettavo questo quello che è dell'europa è una cosa che non mi piace Francesco so che hai qualcosa da dire su questo sì no assolutamente il primo auspicio è che alla vigilia delle elezioni per il curinale che vedono il nostro paese ancora una volta in gravissima difficoltà come è accaduto sette anni fa io mi auguro che diciamo che questo piccolo lavoro possa essere non mi faccio non mi faccio delle illusioni perché mi accorgo che ovviamente i parametri sono cambiati però io per esempio non posso accettare che una decisione importante no come può essere quella di decidere o meno l'obbligatorietà di un bacino come decidere o meno l'utilizzo di una misura piuttosto che un'altra non posso accettare che una decisione importante debba essere presa sulla scorta di quello che pensa la gente di questa decisione se io penso che fumare fa male decido di mettere in pratica una legge come la legge Sirchia appunto e la mia impressione è che invece la classe dirigente attuale prima di prendere una decisione ed è la grande differenza rispetto a quello che accadeva 30 anni fa si confronti con i like sui social e questo attenzione e non è un ragionamento da bacchettone il mio non sto dicendo che la tecnologia è da buttare la macchina mi serve ma se vado a 200 all'ora in città mi vado a schiantare nel lungotevere è di tutta evidenza che la tecnologia debba essere usata in una maniera composita e accorta però oggi siamo arrivati al paradosso che le strategie politiche vengono tarate su altri livelli io ho sentito ho visto selezionare classe dirigente non sulla scorta delle competenze e questo è un tema di cui parliamo da anni qualche giorno fa ho avuto il piacere di intervistare il professor Pasquino noto politologo italiano e conversando sul collo e su quant'altro dice ma la prima riforma da fare non è non è non è importante chi ci mettiamo al collo e la cosa importante da fare è il vincolo di mandato perché perché così i parlamentari non potranno cambiare casacca i governi saranno più duraturi non ci sarà il gioco al rimpiattino vado qui perché mi dai questo una maggiore governabilità potrebbe portare anche una serenità nelle azioni della politica io penso che questo sia una cosa molto importante da fare anche perché parliamoci chiaro 30 anni fa quando giorgio ha fatto questi incontri non c'erano le scene tragiche che stiamo guardando adesso non c'era il trasformismo tanto caro a depretis non c'era gente che cambiava casacca 5 6 7 volte cioè è chiaro che poi se tu mi chiedi qual è il sistema che io preferisco io ti direi il semipresidenzialismo alla francese perché chi vince governa chi perde va all'opposizione per 4 o 5 anni cioè questo è un paese serio ecco io mi auguro che nel nostro paese un giorno possano nascere due schieramenti civili come esiste negli Stati Uniti due partiti che esistono e sopravvivono ai loro leaders perché i leaders se ne vanno però i partiti le idee diciamo le impressioni e anche gli spunti della classe dirigente piccola o alta che sia possano restare e voglio aggiungere un qualcosa sulle scuole politiche non è una forma di conservatorismo o un nostalgismo ma Piazza del Gesù che era la sede della democrazia cristiana botteghe oscure la sede del partito socialista via del corso del partito comunista via del corso dove c'era il pc e via della scrofa dove c'era il movimento sociale erano luoghi di elaborazione politica e culturale prima che partitica cioè a botteghe oscure si saliva da un piano all'altro se si faceva carriera e se si studiava io ricordo che qualche tempo fa è uscito un bellissimo libro di Padellaro sui incontri segreti fra Berlinguer e Almirante dove i due leader mettevano a frutto questi incontri e a cascata li facevano scendere nella classe dirigente cioè è questo che manca al nostro paese in questo momento le riforme verranno dopo ma se non c'è una classe dirigente che torna a far studiare a far studiare i ragazzi a far crescere le classi dirigenti ecco fatico a diciamo a digerire il fatto che il vicino di casa possa fare il ministro è un mio limite probabilmente però è una cosa che assolutamente non produce buoni frutti se non un frutto di illusione di pia illusione che tutti possono fare tutto ma non è così perché io non posso fare il chirurgo non lo so fare il medico ecco allora bisogna imparare a fare il proprio mestiere la politica è uno dei mestieri più importanti perché governa la res pubblica che è una cosa che di tutti sì io penso che in questo concetto che purtroppo abbiamo avuto in questi ultimi anni dell'uno vale uno uno vale l'altro ecco sia una cosa che sta per essere superata c'è stato l'ultimo libro insomma il libro di Di Maio che ha scritto un libro anche lui e insomma su cui su certe cose insomma ha detto che non le rifarebbe perlomeno penso che sia un modello insomma che si è capito che non non si va da nessuna parte in quello perché ecco ripeto come ho detto era l'esperienza in politica e per un per un periodo c'è stato questa delirio diciamo così un po' giacobino non so come dire insomma l'esperienza in politica era un dato di demento esperienza che poi si fa appunto con la militanza con come tu dicevi appunto con la l'esperienza nel partito nel fare le piccole cose pian piano essi assorbe un ma anche un linguaggio uno spessore una conoscenza di 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 cose che sono necessarie poi che si vengono a mettere a frutto quando si se si sarà amministratori si diventerà amministratori parlamentari quello che spero che eh questa ondata popolista ehm ci faccia eh rispondi diciamo rivalutare appunto quelle che erano le scuole di partito le scuole di politica e di partito senza la degenerazione della partitocrazia che non è che sia un un pacchetto diciamo necessario ecco eh al a un sistema di partiti no partitocrazia è è stata una degenerazione e dobbiamo dire che probabilmente il la ventata di antipolitica è venuta fuori dalla fine della cosiddetta prima repubblica sostanzialmente da mani pulita in poi c'è stato un momento con l'outsider berlusconi e quant'altro che ha portato un pochino tutto quanto pian piano verso l'uno vale uno tutto orizzontale io spero che ci sia una un recupero di un certo tipo di di esperienze di 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 conoscenze nella politica eh il nostro tempo sta volando io vorrei dare un ultimo giro di eh la parola a voi per fare un appello insomma per eh dire perché dobbiamo comprare questo libro perché è importante viene anche il Natale eh l'Italia dei giganti di Giorgio Labrinopoulos a te Giorgia prima di dire il mio appello posso dire una cosa che diciamo veloce veloce su quello che ha detto Francesco eh sono d'accordo su tutto quello perché abbiamo parlato sempre e so benissimo di quello che penso che se mettono Draghi come presidente della repubblica sarebbe l'ultima volta che il parlamento manda un cambieranno cambierà tutto sto pensando che diventerà repubblica diciamo diventerà un presidente della repubblica che comanda non lo so come spiegarlo eh praticamente da 2011 se fai caso sia Napolitano e sia Mattarella hanno hanno fatto un semipresidenzialismo e il quale diciamo il presidente della repubblica ha comandato capito ha messo i presidenti di i premier e penso che se mandano Draghi o qualunque altro sarà l'ultima volta che praticamente sarà il presidente della repubblica votato dal Parlamento comprare il mio libro eh il mio libro parla di un'Italia che non c'è più e e i trenteni e quaranteni di oggi non sanno com'era l'Italia e spero che che vorrebbero sapere com'era una volta il nostro paese dico il nostro perché dopo cinquant'anni certamente anche per capire perché è diventato quello che è diventato a tre Francesco no mi mi aggiungo all'appello di Giorgio sarebbe utile eh rileggere questo libro che ripeto non è un libro nostalgico ma è un libro futurista eh per mettere allo specchio l'Italia di ieri con quella di oggi attenzione non è un tiro al piccione noi non vogliamo per forza individuare i colpevoli della struttura di oggi oppure individuare dei capi ispiratori tutt'altro eh io mi limito a sottolineare che è una società che eh non si sforza di essere critica ipercritica nei confronti di se stessa è una società che è destinata all'oblio quindi benvengano le critiche benvengano gli atti di accusa vuol dire che c'è ancora una certa vivacità culturale in un paese che non si interroga più sui libri sulle proposte sulle tesi anche sulle provocazioni quindi potrebbe essere un ottimo regalo di Natale da regalare anche a quei cinquantenni e purtroppo ce ne sono tanti che non hanno mai ascoltato il discorso di Giulio Adriotti o di Sandro Pertini bene io vi ringrazio ringrazio entrambi e ricordo l'Italia dei giganti di Giorgio Labrinopoulos eh a cura di Francesco De Paolo Pegasus Edition grazie ancora e continuate a seguirci su Libri di Bu grazie 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 a te grazie